Il frigo mi si è rimbaltato. C'è qualcosa di particolare? No, non so più l'altro. Quante volte che c'avevo qualcosa di particolare. Ecco, anche questo poteva essere. Tu sei anche in audio, eh? No, c'è. Non vuole più niente dietro. Non vuole più niente dietro. Non vuole più niente dietro. Faccia cheese, prego. Capri il formaggio? Mi andrò bene a inciampare. Ciao. Grazie a tutti. 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 Cambio braccio. Grazie a tutti. Devi aprire? No, devo... Sprengere meglio di dietro qua. Sono in primo piano sul pre. Ok? Ci sia? Ah, sono in rec. Ok? 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 Ok. Primo piano. Primo piano. Il secondo piano è quello lì. Soprano. Il soprano. Il soprano il prossimo anno. No? No? No. 20 metro quadro di restaurato da allargare. Ok? 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 fine grazie 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 grazie